ben trovati al meteo serie a ciao barzi bot, sei pronto? illustriamo i risultati del weekend ok poi procedere genoa bologna 2 a 2 mai dire mai como parma 1 a 1 gita sul lungo lago milan udinese 1 a 0 stadio san zio il rot della cuffia lavoro in corso in pollinapoli 0 a 1 quando è culo è culo tutto un dire venezia atalanta 02 complimenti per la trasmissione lecce fiorentina 0 6 nel viola dipinto di viola cagliari cagliari torino 3 a 2 accompagnati dai genitori roma inter 01 posticipo domenica la vita è tutto un blef e per finire verona monza 03 la monaca colpisce ancora ok questi sono ecco quello che è stato il tempo come è stato il tempo nel weekend durante il fine settimana sì sì barzi ci sentiamo d'accordo arrivederci per questo fine settimana ciao barzi bot ciao 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 grazie a tutti allora come la macchina sono calate le tenebre calato il sol io poi quello che dovevo dire ho detto per oggi sentiamo un po sentiamo un po chiamamo un po parente il mio parente il cucino di campagna anima mia no aspetta è squadra mia ti aspetterò insomma è quello dai ecco chi c'è al cucinaccio il cucinaccio ma è ma scannata dopo bene l'altra secondo te che farò migrato 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 ma mi prude ai che fai si sarà al lavoro no quasi finito di pasto live che ti vuole meno male va a meno queste ora sono qui rimettere peste arrivo a cena per cambiare te non mi fa un cavolo mi fa una sega te fai le seghine fai le seghine come i signorini in campo e poi si la mettono perché le sostituiscono di questa vittoria di questo scruzione fai le seghine come loro ascolta hai visto che ci voleva che dicevo io da retta al tuo cugino da retta a tuo parente che ci voleva pozzo bastone carota bastone carota se non vanno non concretizzano via si prova altri infatti il bene della squadra giusto capito il bene della squadra prima sempre no delle statistiche personali e se vinto si è giocato male ma si è finto infatti poi arriveranno risulta il gioco arriverà non me ne frega niente risultati dobbiamo essere ascolta lo dico e poi me ne vado risultatisti ok è tutto chiaro ti parla anche in inglese sono anche madre l'igua ma che c'è madonna sti cani via vai ora ora si rimette pecore eh c'è di bello che hanno le stesse idee ma te fai una sega che ne sai te fai una sega io ti vorrei vedere una sega ti vorrei vedere con quell'altri scappati di casa che abbiamo in squadra che prendono un monte di soldi a passare la mezza giornata mi basta quella no comunque dai sto contento eh sto contento che tra poco si va ora vado a tavolino a mangiare a cena la tavola apparecchiata quando lo stomaco chiama l'uomo risponde è così dai va bene ci vuole ci vuole la garra la grinta la fame tanto di cui parlare come quella che ho io adesso perché se no non va bene non andiamo da poi io ascolta questo caso le au le au e che crepati coglioni senti è ma io posso come apro un giornale apro il telefono che mi sento di tutti i cosi sulle au ha esultato un esultato sorrideva non sorrideva un pochino si può basta è via diamo fammi rimettere le bestie i mezzi e vado a cena che domattina si alza presto ma le piove le piove ma vabbè grazie ciao eh non è che si è fatto risentire aspettavo la chiamata ciao ciao il lavoratore che sei ci sentiamo ciao 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 sia per forza mia ovvia siamo quasi arrivati si va a casa ora va mangio anch'io va sempre a giro ragazzi purtroppo è questa la situazione inutile girarci intorno andare a cerca tanti discorsi è così punto il bene della squadra prima di tutto basta non è anche loro si devono sentire in discussione e poi riguardo a camarda ragazzi è stata annullata la rete è brutto ma purtroppo il regolamento il fuorigioco c'era c'era però nulla anche se non è stato convalidato nulla toglie il gesto atletico l'impatto che ha avuto e la potenzialità che ha questo ragazzo ragazzi guardate solo come colpisce il pallone di testa guardate che il pallone come lo fa gira che torsione del collo che freddezza guardatelo scusate fanno aerobica promette bene promette bene ma sta anche a noi voler che per voler a noi che sia la nostra bandiera un futuro non molliamo sta a noi eh ragazzi sta a noi non lasciamo che questi speculatori ci guadagnino sopra eh ve lo dico vai ci siamo arrivati no perché questi ora lo pubblicizzano bene e poi te lo schiaffano via arriva qualcuno 40 50 60 milioni tra un anno e te aspetta e spera będę probabilmente si lo evitete rega va bene così si è breve da trovarmi ci sono rilevano a sostenermi ragazzi ha dimenticato l'unico grande amore nostro è la fase della crescita si è l'ormone ciao ragazzi ho detto tutto